Sì, c'è saltella? Sì, c'è saltella. Faccio un miso. Sì, c'è saltella? Sì, c'è saltella. Sì, c'è saltella. Sì, c'è saltella. Sì, c'è saltella. Aici e inchirierea de barci. Nu vreau. Mă, dar unde stătea don Mateu? Aici stătea? Aici era? Aici era. Doar dacă vrei să inchirierești barca dintre. Aici era cabana lui Don Mateu. E un Paso del Sielo. Aici au filmat. Aici au filmat. Aici. 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 Să intru doar pentru inchiriere de barci. Aici. 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 Siamo in fondo, ciò che coloci al lato. C'è tutto. Siamo in parte del lato.